Ehi la, benvenuti alle catacombe di Retunto Castle Wolfenstein. Individuiamo il diario del professor Zenfu e inseguiamo nella divisione paranormale attraverso le catacombe. Va bene. Siamo usciti qua giù. Un mattatoio. Un mattatoio. Un mattatoio. Avete sentito? Una dannazione ho sentito. Andiamo a uscire di qui. Seguitemi fino all'incrasso. Poveri nazisti che si spaventano. Ma perché sta scattando? Cosa sta combinando Bandicam? La scala è distrutta. Siamo bloccati qua dentro. Addirittura stanno andando a 6 fps, attenzione. L'amor di Dio, ritorna a un frameretto accettabile. Ecco, dai. Oh. Ah, che è? Che è? Vabbè. Eh, così. Sì. Sì. Cosa sta succedendo? Un casino. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sì. Cosa sta succedendo? Aiuto. Aiuti i poveri nazisti. Eh, vabbè. Ma io vi ho aiutato, eh. Sera. Oh, ma c'è ancora! Ti troccai io sempre odio. Fa ballare una carena. Oh, vabbè. Eh, vabbè. che morte orribile ok dai, andiamo avanti manufatti potrò contenere informazioni preziose aia te l'ha pedata contro il muro aia, tutto preso bravo se ti sparo le giochia ah, vedi che muro ah, mi riflettono i proiettili scusi, la smetta aia ah, mi ha tirato la granata dietro vabbè, è stato l'intelligenza artificiale di questi nemici e vabbè, è cagato il coglione però eh, lo dice anche lui non c'è nulla non c'è nulla non voglio sapere nulla andiamo via eh, non si mangia quindi non c'è nulla Esci che salvo, va. Uiii! No, no, no. Sera. Beh, ci vediamo il prossimo giorno, eh. Devo uccidere tutti i mostri se non posso andare avanti. Giusto. Sera. Sì. Bravo. Ce ne sono altri? Ce ne sono qui, eh. Ok. E quindi? E quindi? Ah, devo scendere giù? Siamo sicuri? Aia. I calcagni. Aia, ma sono buttato dietro. No! Ia! Infame! Aia. Famia. Calci. Non vedo nulla. Cos'è? I calci. Eh. Perché si autodisintragano? Non lasciano nulla. Ecco, dammi l'energia, va. Tanto ho capito che a te non ti serve. Qua no, qua no. Qua no. Qua no. Qua no. Qua no. la porta è chiusa. C'è l'interrutore. Giustamente. Sera. Permesso? Ah, mi ha riportato qua. Eh, va bene. Eh, va, va, va bene, va bene. Muovici. Chi c'è? Dove? Dove? Non ti vedo. Ah, ecco. Ho capito, dai, te. Te la granatina, te. Ah, mi sono morti. Ora posso andare? No? Sto salvando in maniera scura. Ah, e posso essere posto possibile alleato. Idiota. lì. 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 Ecco. Ecco, là lì. Stanno lanciando le anime oscure. Eh, cosa c'è qua? Vabbè, era meglio non saperlo, eh. Non è che devo portare a sapere. Ho preso il diario. Il diario si non è venuto. Ahia, me lo sto tirando a faccia. va bene. Va bene. Mamma mia. C'è la granata. E' la granata. E' la granata. E' la granata. Sparami. Ti apri due. Oh, per... Non mi faccio, eh. Cosa c'è? Granate. Bene. Vita. Perfetto. Salvo. Mi sto già pentendo di aver fatto questo gameplay. La torcia. E vai giù. Ma lei... Lei è il mundo. Se ne rende conto, sì? Eh, la miseria. Ha preso un po' male. Beh. Ho premuto qualcosa, ma... Cosa serviva? Non sapremo mai. Sì. Sbriciolatuto qua. Siamo andando a contare il cracker. Sento spagna. Eh, stia o stia. Se volete... Ah... No. Vai giù. Anche tu. Non me la racconti giù sta mica, eh. Oh! Oh! Ehhhh, la miseria. Vai giù Boh, vabbè No Aia Stronzi Non ho più munizioni, eh Ecco, prima che I nazisti sono morti Per darmi le loro armi Oh, è finita la missione per fortuna Questa Era la nuovissima parte di Return to Castle Wolf Spero mi sia piaciuta Nonostante alcuni piccoli problemi di lag Spero si risolveranno Non mi è mai successo Perché gioca abbastanza vecchio E oltretutto adesso sta andando a 80 fps Ma all'inizio video faceva 6, 7, alcune volte scende addirittura a 15 Quindi Questo è tutto Ci vediamo con la prossima parte Ciao ciao